Chiedere a Conte, uno, per chi avrebbe votato in Emilia Romagna? Per chi avrebbe votato? Ma forse mi sarei affidato al voto disgiunto, ma non dico quale. Eh, ma però, allora così non vale. Vabbè, e comunque tanto lei non si è rimesso, come qualcuno avrebbe pensato e voluto, e lei resterà in carica ancora per molto tempo, perché ha intenzione di andare avanti. Adesso vediamo però per fare che cosa e come. Uno, il come. Lei non teme che il PD alzerà la voce, passerà l'incasso su tutta una serie di provvedimenti, di temi che stanno più a cuore, diciamo, al Partito Democratico, le cito, i decreti di sicurezza, lo Jus Culture e molte altre cose ancora, o pensa che continueranno a restare le ali un pochino subalterni ai 5 Stelle? Le posso dire come funziona il mio tavolo di governo? Ci si siede intorno a un tavolo, faccio un esempio concreto, liberi e uguali propongono l'abolizione del ministro Speranza, l'abolizione del super ticket, la valutiamo, la soppesiamo, pro e contro, è un'ottima misura, la variamo. Così tutte le altre. Cioè a questo tavolo di governo vanno avanti le proposte che hanno la forza della loro, la forza dell'argomentazione, la plausibilità e la sostenibilità e l'efficacia delle stesse. Non mi interessa altro.